Belli e brutti come state? Sicuramente guardate anche voi i mondiali, siccome l'Italia non gioca allora noi qui in Svizzera siamo quasi costretti a guardare o la Svizzera o la Spagna o la Francia no, la Germania neanche però diciamo, la Spagna o la Svizzera. Comunque è quello che ho notato che nella nazionale Svizzera l'80% sono figli di emigrati, di terza generazione e mi fa molto piacere che loro hanno potuto, hanno avuto questa possibilità diciamo e la stessa cosa si rispecchia anche nel mondo della musica perché anche lì tutti quelli che diciamo hanno più o meno successo, non abbiamo i star come voi in Italia, Ramazzotti via vai, questi tipi qua non ce li abbiamo, però abbiamo già dei artisti che veramente hanno la stoffa di diventare famosi in tutto il mondo e oggi vi presento due o tre di loro solo un pezzettino perché sapete copierai qua, diratti, cinsura, chiusura, chiusura, un canale, vabbè, finì, e vi presento solo due o tre di loro e mi interessa veramente sapere cosa ne pensate voi di questi artisti perché a me mi piacciono molto. solo una è Svizzera, questa è la premessa, cioè una è Svizzera, però anche lei devo dire che non sono mica tanto sicuro che è Svizzera, Svizzera, comunque oggi facciamo partire questo video con questi due o tre artisti che voi sicuramente non li conoscete per niente, andiamo a qui si tratta Io ti chiedo a ti, amame. Ya, calmate mamacita, di tutte le donne più belle, perché è la più bonita. Mi dà calor in noche fria, se stai nervioso, te quedas tranquilla. Mi ricordo come tu sanguina, mi chocco e agonesi, te decían, però dopo mesi, anche io per te moriria. Ma calma te, mi chiede mille, però io ti chiedo a ti. Ali! Amame, sabes che tutto me, non puoi ferire, nada me, importa quando sto con te, contigo tu dolore, chai non vido, dejami a me. Por ti moriria, daria mi via, del nocci e del dia, tu amor me guia, il dolore di misericordia. cuore con la carne. Conecate e che cuore un pezzi, un cerveza che fuori, cuore che cuore la carne e cuore. cover un pezzi e il Cake. Conecate e cuore? Di soli solo uno di un pezzi e cuore di cuore, di soli e cuore. Di Beller, di Käufer, d'Lehrer, di Schuola, schlichte, d'Richter Wann mal wie vergiften,ziehenile bis hierno e isiense twosere drifte Liublé, classified, dépittere, zupfer впedero Verkäufer, di Konte, Patiente, de Duda elegge du trae Waren suche, ha be sie ne finde und hätte sie mal gefunden, besti da zurück Sie che quando avessi in Google, i user am Computer Verbruchendi dure di duzzente Revoluzzi Komplexite med named Rubi Cube o de Duden Amorga zenni a schluz neurodruzrede brauche Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.